E' impossibile stimare quante volte Ermanno Gorrieri abbia percorso questa strada, dalla casa in cui ha vissuto a uno dei luoghi in cui ha lavorato per oltre 30 anni. E' la stessa strada che hanno percorso le sue carte e i suoi documenti, che oggi sono custoditi in archivio al Palazzo Europa. A dieci anni dalla sua morte siamo andati anche noi a esplorare l'archivio e a incontrare persone che hanno conosciuto Ermanno. Per ricordare e ricostruire la vita di un uomo politico, che per noi è stato anche padre e nonno.